Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 fino alle 8 di domani mattina, 8 ottobre, chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio per lavori in direzione Firenze. In direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita all'Astra Assigna e a Santa Croce sull'Arno. Per traffico intenso ci sono rallentamenti in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. Chiudiamo con la viabilità cittadina a Firenze in piazza Taddeo Gatti. Traffico rallentato a causa di un restringimento di carreggiata. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!